Un paese governato da ricchi e potenti, banchieri e magnati della finanza, sarà sempre soggiogato dalla casta. L'Italia è governata da degli impostori che mirano a massimizzare i propri profitti, questo spiega come mai il divario tra ricchi e poveri va aumentando. I ricchi sono sempre più ricchi, la gente comuna è sempre più povera, la classe media sta per scomparire, l'Italia ha tutti i connotati culturali per poter essere un paese prosperoso, gli italiani sono grandi lavoratori, il patrimonio paesaggistico, culturale e storico dell'Italia è invidiato da tutto il mondo, ma fino a che sarà la casta a comandare, gli italiani saranno oppressi, la pressione fiscale ha reso schiavi gli italiani a vantaggio delle lobby. La legge non riguarda i potenti che possono farla franca, qualunque sia la nefandezza che commettono, dobbiamo lottare per la nostra dignità. La sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca! Grazie!